A margine della diciottesima conferenza nazionale dei piccoli comuni Ancia Viverone si parla anche di turismo, spazio anche al turismo accessibile con il presidente regionale dell'Unione Italiana Cecchi e i povedenti Adriano Gilberti. Diciamo che è un'opportunità che ci è stata data oggi di poter esprimere quello che è il nostro punto di vista in quanto disabili proprio per far emergere la possibilità che esiste sul territorio piemontese di coinvolgere le persone con disabilità, da arrivare in Piemonte per visitare quello che è la nostra regione che come dicevo ha molti punti interessanti e molti punti da scoprire anche. Come dicevo appunto prima abbiamo fatto noi nel Biellese questo video da far girare ed abbiamo fatto girare a livello nazionale affinché anche il Biellese in questo momento e come dicevo speriamo anche in tutto il Piemonte si possa far capire che anche qui si può venire a fare le vacanze, anche qui si può venire a passare dei giorni tranquilli visitando sia le città d'arte che praticamente ne abbiamo, in ogni città c'è qualcosa di interessante da vedere, sia quello che è il paesaggio e quant'altro. Tra l'altro lei ha ricordato dei dati significativi. I disabili italiani sembra che siano pari alla popolazione della Lombardia, non sono numeri piccoli che poi come dicevo aggiungi quelli che sono gli accamponatori o parenti o amici che siano, vedete che razza di bacino, di utenza che ci sarebbe da sfruttare, è brutta la parola dire sfruttare, ma sfruttare nel senso buono naturalmente. Grazie a tutti.